Per due anni ha ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne diritto. La compagnia di Pesaro della Guardia di Finanza ha smascherato un furbetto del sussidio residente nel territorio pesarese che nel 2019 e nel 2020 ha indebitamente percepito la formula statale di sostegno destinata alle persone senza lavoro e in reale difficoltà economica. Attraverso un'attività capillare di controllo, le Fiamme Gialle hanno scoperto una situazione patrimoniale al di sopra dei limiti previsti dalla legge. Il soggetto in questione aveva infatti racimolato discrete somme attraverso delle vincite online al gioco, cioè 60.663 euro nel 2019 e 111.136 euro nel 2020. Un totale di oltre 170.000 euro che il furbetto ha deliberatamente omesso dal calcolo dell'Isee durante la dichiarazione sostitutiva unica. Non dichiarando le vincite, il furbetto è dunque riuscito a incassare il reddito di cittadinanza per due anni per un importo complessivo di 12.700 euro. Furbetto che è stato dunque segnalato dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Pesaro per aver indebitamente percepito erogazioni a danno dello Stato. Contestualmente è stato segnalato anche all'Inps per il blocco dell'erogazione e le procedure per il recupero dell'indebito incassato.